Al nostro mondo manca qualcosa. Gli straordinari animali cancellati dal tempo. E se potessimo farli ritornare in vita? E se l'estinzione non fosse un processo irreversibile? Stiamo per partire per un safari davvero unico. Lo zoologo Nigel Marvin farà un viaggio indietro nel tempo e cercherà di salvare creature sull'orlo dell'estinzione. Il suo piano consiste nel portare alcuni animali al sicuro nella nostra epoca per dare loro una seconda possibilità. Questa volta Nigel viaggia nel Sud America preistorico alla ricerca di enormi uccelli predatori e delle feroci tigri dai denti a sciapola. Benvenuti nella riserva naturale unica al mondo. Benvenuti al Prehistoric Park. 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 Grazie a tutti.